21 chilometri di corsa tra i sentieri e panorami mozzafiato di Livigno, 1109 runners. Questo è il successo della diciottesima edizione dell'Astralivigno. La gara di trail running che ha richiamato nel piccolo Tibet tantissimi appassionati tra atleti professionisti e amatori. Partenza e arrivo nel cuore del centro sportivo per l'allenamento in altura. Acqua Granda, Active View. Francesco Agostini e Benedetta Broggi hanno tagliato per primi il traguardo della Stralivigno 2017. Una festa di sport e divertimento anche per i 430 piccoli runners, protagonisti della Mini Stralivigno. L'Ivigno ancora una volta, meta ideale per gli amanti del running e dagli sport outdoor. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.